bella a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video qua da svopo caffè come al solito io sono gabriel birillo oggi andremo a fare vedere il nostro nuovo liquido vai navide siamo qua a presentare mors mors nuova edizione nuova grafica nuovo nome a roma vecchio ti puoi dire abbiamo riformulato il tupac così che in formato scomposto dopo una settimana di maturazione sia come era il tupac in pratica ed è abbiamo qua il test pronto io vado con un wasp nano su un sui sui due qua abbiamo l'hammer con la pomme da guancia grazie mille buona sera un altro da guancia questo l'abbiamo miscelato oggi l'abbiamo miscelato un'oretta fa adesso si sente più il biscotto nel giro di una settimana il biscotto si abbassa un pochettino diventa più rosso si sente più dolce del marcello e diventa com'era risultati predipedito sera il disturbatore ritornare alle origini occhio che stecco occhio che stecco ma maiale vedi che io non uso il topi per quel motivi sopra qui si sente molto cioccolato spingendolo un po' di più si sente cioccolato poi naturalmente ripeto dopo una settimana diventa più dolce quindi soprattutto se va sbappato in cloud ad alti vattaggi consiglio di aspettare se non si può aspettare una settimana due giorni può andare bene però si può sbappare anche subito questo miscelato un'ora fa e siamo qua a sbappare aspetta 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 che cambia anche la città non si vede la mano non si vede la mano esatto allora votazione finale di questo liquido 10 porca miseria io non mi do un voto da solo perché sta bene grazie ciao media alta media alta l'uomo assaggiare il nuovo liquido video mi è piaciuto la città anche se mi vedete il carattere che abbiamo la pagina su Facebook e su Instagram veniteci a trovare ciao ma dove siete scusate un po' eh perché è anche un altro mezzo sai quando erano i gatti siamo qui scusate le spade proviamo a tagliare questo prezzo di oridio durante l'estate ovviamente che sei la spazia in quale siamo oggi? vi aspettiamo qua ma da soli